eccoci ad una nuova edizione del tg scratch notizie e cronache dal mondo degli sprite questa è un'edizione speciale tutta dedicata al tema del coronavirus allora la prima notizia riguarda una simulazione di infezione che è stata realizzata al centro di ricerche spray toniche andiamo a vedere di cosa si tratta vediamo se parte la simulazione ecco quindi vediamo una serie di personaggi che che si muovono e che comunque sono a una certa distanza di sicurezza e al centro vedere che c'è una persona tendenzialmente immagino che sia infetta ma non sta infettando nessuno perché praticamente stanno tutti mantenendo la distanza di sicurezza vediamo che cosa accade se queste persone incominciano ad avvicinarsi ecco vediamo che praticamente incominciano ad infettarsi ognuno infetta il vicino fino a che quello che accade che si infettano tutti quanti perché la distanza non viene più rispettata bene quindi direi che questa simulazione è abbastanza intuitiva e ci fa capire bene quello che accade quando non viene mantenuta la distanza di sicurezza e questo anche nella scratch cloud sembra che avvenga ora andiamo a vedere la seconda notizia che pare che ci sia nel mondo di scratch un affamato divoratore di covid 19 vediamo un po di cosa si tratta andiamo a vedere il servizio eccolo eccolo è un dinosauro mangiacovid quindi sì effettivamente molto vorace direi che è un buon sistema per abbattere per combattere il virus basta avere a disposizione questo vorace divoratore come vedete credo che non sia nemmeno mai satollo diciamo del virus quindi direi che è un ottimo modo per combattere il virus ma adesso vediamo andiamo all'ultima notizia che è una notizia di sport è in corso una partita di baseball nella scratch arena e tra i gatti volanti i gatti volanti che stanno sfidando i pinguini di fuoco però pare che ci sia qualcosa di anomalo in questa partita andiamo a vedere il servizio andiamo a vederla in diretta ecco vediamo che c'è il battitore in attesa di ricevere la palla ah ecco avete visto eccezionale la palla è un coronavirus vediamo ah sì ottimo ottimo quindi diciamo gli scratch praticamente giocano a baseball con con il coronavirus beh direi che è eccezionale questo modo di combattere il virus e possiamo tornare in studio e possiamo chiudere qui questa edizione speciale sul tema del coronavirus e ci vediamo alla prossima edizione arrivederci